È entrato nel vivo il viaggio di Papa Francesco in Myanmar che in questa seconda giornata ha iniziato con un altro fuori programma, ovvero l'incontro con 17 leader religiosi, tra cui buddhisti, islamici, hindu, ebrei, cattolici e cristiani di altre confessioni. Tema dell'incontro nell'arcivescovado di Yangon, l'unità nella diversità. L'unità, ha spiegato subito il Papa, non vuol dire essere tutti uguali, non è uniformità perché ognuno ha le sue ricchezze, i suoi valori e anche le sue mancanze. Unità è piuttosto armonia, condivisione e questo può accadere solo se si vive e si costruisce la pace nel coro delle differenze. Francesco ha esortato a non avere paura delle diversità reciproche e a rifiutare ogni forma di colonizzazione culturale che uccide l'umanità. L'aereo papale ha lasciato poi Yangon alla volta di Naopitò, nuova capitale birmana. Dopo la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale si è svolta la visita di cortesia di Francesco al presidente e il colloquio privato con il consigliere di statua Aung San Suu Kyi, che parlando della crisi della Rakhine, dove vivono i musulmani Rohingya, ha voluto includere il Papa tra quei buoni amici che sostengono lo sforzo di pacificazione. Al Myanmar International Convention Center, l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel suo primo discorso ufficiale, Bergoglio, lodando la straordinaria bellezza di questa terra, ha parlato di ricostruzione, affermando che il tesoro più grande del Myanmar è il suo stesso popolo, che ha sofferto e tuttora soffre a causa di ferite profonde inferte da ostilità, guerre e divisioni. Il futuro del Myanmar deve essere la pace, fondata sul rispetto della dignità e dei diritti dei singoli, ha insistito il Papa, che ha rimarcato il ruolo fondamentale delle religioni per aiutare ad estirpare le cause del conflitto e a guarire le cicatrici, cominciando dall'impegno comune per i poveri. Infine, ha chiesto alle autorità del Paese di investire sulla formazione dei giovani all'onestà, all'integrità e alla solidarietà, basi fondamentali per consolidare la democrazia e per aprire una nuova era di concordia in questa amata nazione.